Buongiorno, sono Lucia Montebello, la responsabile dell'Emporio della Caritas di Cesana di Roma. Qui accedono le famiglie che sono in estrema difficoltà. L'Emporio è nato come aiuto alla famiglia che non arrivavano alla terza settimana, però dopo questo triste periodo del Covid le settimane ne diventano anche una. Come si accede all'Emporio? Si vanno nei centri di ascolto delle parrocchie oppure ai centri ascolto Caritas che sono sia per gli italiani che per gli stranieri. portano il loro lice che deve essere inferiore a 6.000 euro e poi descrivono un po' la loro condizione sia economica che familiare. Vengono inseriti in un sistema che si chiama SIS dove si prende in carico tutta la famiglia. L'Emporio è una parte di questo carico che si dà alla famiglia, la parte diciamo un po' solo alimentare, però vengono aiutate anche per la parte sanitaria, per la parte economica. Viene data questa tesserina che parte da 90 punti per gli adulti e a salire diventando un adulto familiare. E poi c'è una tessera infanzia che viene data ai bambini per neonati fino a due anni e possono prendere tutti i prodotti che sono al di sotto, cioè che sono bambini, omogenizzati, latte in poker.